In vista delle eminenti elezioni amministrative a Teramo, 15 persone tra cittadini, imprenditori e professionisti hanno sottoscritto un appello civico all'avvocato Carlo Antonetti affinché accetti la proposta di candidatura a sindaco per riportare, come scritto nel documento, Teramo in Serie A, una richiesta sulla quale il diretto interessato si è detto lusingato e apre al dialogo con chi lo ha indicato come il sindaco ideale. È stata una grande sorpresa, devo dire anche una bella sorpresa, della quale sono onorato e lusingato. Non è una cosa che rientra nei miei pensieri, però devo dire che mi ha fatto ovviamente piacere. Adesso la prima cosa che dovrò fare, vorrò fare, è incontrarli per sentirli, ma niente di più. Insomma è un fatto di correttezza, un fatto di cortesia, è un fatto di ascoltare delle persone che credono in me così tanto da propormi a fare il candidato della mia città. Quindi veramente sono onorato di questa cosa e prestissimo li incontrerò. Va ricordato che Antonetti da tempo si sta occupando dell'organizzazione dei 50 anni della Coppa in Teramnia, un evento internazionale che rappresenta molto per i teramani e non solo. Ma il nome di Antonetti non è la prima volta che viene fatto per la carica di sindaco. È vero, ho una buona memoria, ho passato qualche anno, sono circa 20 anni. Nel 2004 ero stato candidato proprio da una serie di forze politiche. Non ho accettato perché la cosa importante per me non è tanto la carica di sindaco, che è una carica prestigiosa, importante, forse la più importante che si può avere in una città, ma quella di avere un percorso da costruire e da poi realizzare. Quindi in quei casi lì non c'erano le condizioni e quindi ho detto no. La porta è totalmente chiusa oppure c'è un piccolo spiraglio? Ogni parola sarebbe sbagliata, ma per rispetto delle persone che mi hanno coinvolto in questa, diciamo così, iniziativa. Quindi è veramente per rispetto loro che voglio sentirli e quindi qualsiasi parola sarebbe sbagliata perché non sarebbe comunque rivolta a chi mi ha sollecitato così, in maniera così onorevole.